Endless love anticipazioni. Immaginate una notte tranquilla, un villaggio immerso nel silenzio, ma dietro le porte chiuse si nasconde un segreto sconvolgente. Mentre Ozan dorme ignaro, Zeynep esce a prendere un po' d'aria. Ha appena scoperto di essere incinta e il suo cuore è un tumulto di paure. Ma come farà a dirlo a Emir? Sa che rivelare la verità potrebbe mettere a rischio la sua vita. Decide quindi di giocare il tutto per tutto e proporgli un accordo. Ma voi cosa fareste al suo posto? Lasciate un commento qui sotto e fateci sapere. Emir, convinto di avere già una pista da seguire, ascolta Zeynep che gli svela un colpo di scena. La casa e la nave sono state delle trappole. A questo punto Emir cede e le permette di tenere il bambino, a patto che continui con la sua messa in scena. Zeynep chiude la chiamata senza un briciolo di rimorso e tira un sospiro di sollievo. La tensione cresce, ma non è ancora finita. Kemal, nel frattempo, cerca di tranquillizzare Nian, promettendole che presto si abitueranno alla loro nuova vita. Ma alla casa Sezin, Vildan chiede al marito di dormire insieme, solo per sentirsi dire che lui vuole divorziare. Zeynep torna in camera e ricorda a Ozan che il giorno seguente dovrà costituirsi. Fingendo un malessere dovuto alla gravidanza, convince Ozan a non costituirsi più. Essere padre è una responsabilità troppo grande, gli dice, e Ozan decide di restare al suo fianco. Intanto, Zeynep manda un messaggio a Emir, informandolo che Ozan ha cambiato idea. Poco dopo, Ozan chiama Emir mentre Zeynep, approfittando del sonno di Zehir, recupera il nuovo numero di Kemal e lo invia a Emir. Emir passa l'informazione a Tufan, che localizza immediatamente Kemal. Kemal e Nian finalmente dormono insieme dopo cinque anni. Ma la loro felicità è breve. Tufan informa Emir di aver localizzato Kemal e la caccia a inizio. Il mattino seguente, Kemal esce a fare spesa, ignaro di essere seguito dagli uomini di Emir, pronti a sparare al suo comando. Nel frattempo, Nihann sente bussare alla porta, e convinta che sia Kemal, si trova di fronte a Emir. Lui entra con prepotenza, dicendole che deve ascoltare ciò che ha da dirle. Emir le mostra immagini delle persone care a Kemal, ricattandola. Se torna con lui, nessuno di loro si farà male. Le dice che è stato Ozan a chiedergli di farla tornare a casa, e che non si costituirà più. Nihann, sconvolta, chiama suo fratello che conferma tutto. Nihann, disperata, guarda una videochiamata in diretta. Uno degli uomini di Emir, tiene Kemal sottotiro. Emir le mostra il suo potere, e le ordina di tornare a casa con lui. Altrimenti, prenderà di mira tutte le persone care a Kemal, tenendo lui per ultimo. Kemal torna a casa con dei fiori, ma trova Nihann con un morale decisamente cambiato. Lei ha deciso di tornare con Emir per salvare Kemal, ma chiede un altro giorno per convincerlo a rinunciare al loro piano di fuga. Kemal sospetta qualcosa, ma si gode quella che potrebbe essere la loro ultima notte insieme. La mattina dopo, Nihann non c'è più. Kemal trova una lettera in cui lei spiega di aver deciso di tornare a casa. Kemal capisce che Emir deve aver trovato il loro rifugio e minacciato Nihann. Ma ora la domanda finale. Come reagirà Kemal alla decisione di Nihann? Riuscirà a salvarla dall'ombra di Emir? Lasciate il vostro pensiero nei commenti e preparatevi per il prossimo episodio.